Buongiorno a tutti ragazzi, mi è pervenuto questo video in studio che arriva dalla Germania, vi ricordate che è appena passata la legge dittatoriale per vaccinare le persone, quindi obbligare le persone che gli piacciono a farsi vaccinare, quindi vi faccio osservare questo video, vi era questa live di un dottore che si chiama Andreas Noach, ok, dopodiché interviene la polizia, ascoltiamo il video. Questa è una live, praticamente. A un certo punto il medico sente dei rumori forti e va a controllare. Questo sta accadendo oggi ragazzi e questo secondo me accaderà in tutto il pianeta, se non blocchiamo questa dittatura di questi farabuti criminali pedofili che stanno al governo. La polizia sta sfondando la porta per entrare. E ora? Scusate, per favore. Scusate, non so cosa succede. Non è spaventato il dottore, incredibile ragazzi, surreale, sta accadendo adesso. Moment, qui è la polizia, la polizia sta fuori in casa. Io voglio le braccia, sul piede, sul piede, sul piede, sul piede, per favore! Posa, su piede! Ma ti servei! Kommi! Ti servei! Ti servei di nanni, chi? Siamo amanettati, si cerca di togliere la telecamera. Assurdo ragazzi, ma sta succedendo oggi. Questa è la dittatura che avanza, rischiamo di vedere questo in Italia. Ovviamente questo accadrà all'interno delle case di quelli che fanno varia informazione come me per esempio e tanti altri che avete in Italia. Tanti altri, alcuni in Italia, parlo di quelli non venduti al sistema. Ovviamente questa cosa è in Spagna, in America e via. Prima devono spegnere tutti i canali, devono terrorizzare la gente per introdurre il nuovo ordine mondiale. Sta accadendo adesso, cercherò di approfondire su questo video. Io non parlo tedesco, però mi sembra abbastanza esplicito quello che sta accadendo. Vi ricordo che ieri hanno passato la legge dittatoriale in Germania che modifica la Costituzione, ma prevede la legge anti-covid, mascherina per sempre, vaccino obbligatorio. Avete capito bene? Vaccino obbligatorio, possono entrare a casa vostra e vaccinarvi, eccetera, eccetera, eccetera. Grazie a tutti.